Ciao a tutti, benvenuti all'ultima puntata della stagione dello Smarter Podcast, il podcast italiano dedicato ai protagonisti dell'intelligenza artificiale. Oggi abbiamo con noi Alfredo Canziani, che è Assistant Professor di Computer Science e Research Scientist di Deep Learning all NYU Current Institute of Mathematical Sciences sotto la supervisione di Kyung Kyung Cho ed il premio Turing-Yan Le Kan. Alfredo è anche un musicista professionista, un ballerino e un cuoco e i suoi video e corsi online sono tra i più seguiti nel panorama mondiale del Deep Learning. Eccoci qua, ciao Alfredo. Ciao, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Ciao Alfredo, benvenuto. Oggi siamo qua anche con Vincenzo, che ormai siamo una coppietta fissa di... Consolidata, consolidata. Consolidata di intervistori. Siamo veramente felici di avere, insomma, in chiusura di questa stagione Alfredo, che è uno dei, credente, dei protagonisti più seguiti su online di Deep Learning, penso che sarà una bellissima puntata. Noi di solito ci piace sempre partire con una domanda che è diventata un po' un rito, ovvero chiedere al nostro ospite come si è appassionato all'intelligenza artificiale. Un po' per caso, per dire la verità. Dieci anni fa più o meno scappai dall'Italia, perché mi stava un po' stretta magari, specialmente dalla città dove abitavo, Trieste. Sebbene adori, però non si stava troppo comodi, diciamo così. E quindi finì a fare un PhD, un dottorato di ricerca alla Purdue University, dove c'era questo professore italiano, anche lui che si è lavorato a Trieste, all'Università di Trieste, che lavorava con algoritmi del cervello, algoritmi intelligenti e con biomedica. Infatti andai al dipartimento di biomedica della Purdue University. Inizialmente neanche non si sapeva se avessi dovuto lavorare sugli apparecchi biomedicali oppure su questi algoritmi software del cervello. Però ho detto, visto che sono un ingegnere elettronico, ho fatto tutte le varie cose non intelligenti, cioè cose ingegneristiche prima, adesso magari ci diamo un po' a approcciare queste cose così turistiche, no? Così, quasi scherzo, no? Senza aver pianificato nulla. In questa fuga mi sono ritrovato a giocare con il Deep Learning, e questo era l'agosto del 2012. Giusto un paio di mesi dopo la pubblicazione della AlexNet, che era la prima rete, almeno la rete più famosa, che ha fatto ricominciare il secondo, anzi il terzo periodo dopo l'inverno dell'AI, dell'intelligenza artificiale. Così mi sono ritrovato appunto a giocare con queste cose. Ovviamente all'inizio non c'era assolutamente nessun tipo di materiale informativo, educazionale, educativo come si dice, disponibile da nessuna parte, no? E quindi le cose le imparate da solo, no? E questa è stata una cosa disastrosa all'inizio, perché ovviamente... Paper, no? Paper dopo paper, giusto? Ma i paper ci sono, ma ovviamente io non ho mai letto un paper, no? Un articolo scientifico prima, no? Ho sempre avuto i professori che in classe venivano, scrivevano le varie cose sulle lavagne, adesso scriveva gli appunti, e così imparavo, no? Io non ho mai letto un libro all'università. E invece adesso mi ritrovo in America, tra l'altro, almeno so parlare inglese, perché mi sono fatto un anno in Inghilterra a fare un master in Microsystem Nanotechnology. Quindi quello mi ha permesso di capire, di impararmi l'inglese. Però ovviamente non c'era nessuno che mi insegnasse, no? Questa disciplina, no? E quindi è stata molto, diciamo così, non semplice, arduo il dovere impararsi le cose da soli, no? Non è scontato. Non sai da dove girarti, non sai da dove cominciare. E così mi sono dovuto un attimino rimboccarmi le maniche e cercare di capire come le varie cose funzionino. Alla fine poi, andando a leggere quali sono gli articoli scientifici, che sono assolutamente non direzionati, non sono tailor, come si dice in italiano, non sono... Sì, ne pensati, comunque progettati... Non sono progettati per l'apprendimento. Certo, certo. Ciò sono dei report, dei packages, no? Non so più parlare l'italiano, sono messi per... E siamo in questi momenti di difficoltà con i primi saluti dal pubblico, sì. Ok, ok. Quindi questi articoli sono ovviamente usati per magari riprodurre gli stessi esperimenti, per spiegare le varie cose, ma non sono fatti esattamente per principianti, no? E quindi è stata molto ardua l'inizio, no? Così, boh, così mi sono occupato di... Appunto, mi sono occupato di questi... di lavorare nel deep learning più o meno per caso, no? Così vi ho risposto alla prima domanda. Grande, grande, Alfredo. Diciamo, una cosa carina è che dopo pochi anni, diciamo, dalla tua... Insomma, dopo che hai lasciato Purdue, sono andato io in visit da Eugenio Colorcello, che era il tuo supervisor, giusto? Sì. Per poco non ci siamo beccati lì, quindi sarebbe stato bello lavorare insieme. Poi, diciamo, per continuare, diciamo, il tuo percorso, no? Tu poi da questo dottorato ti sei mosso alla New York University, giusto? Mh-mh. E poi dopo è lì il tuo focus? Cosa ti ha spinto ad andare lì? E su cosa hai concentrato, diciamo, la tua magari ricerca inizialmente? Allora, allora, ci sono tante cose qua da unpack, da aprire, no? Allora, la prima cosa che volevo dire è che quando ho fatto l'applicazione per andare alla Purdue, mi sono stato rifiutato, no? Ovviamente. Sì, perché ovviamente la lettera di raccomandazione che era scritta dai professori italiani era molto oggettiva, o magari, non so, italiana, dicevano esattamente quello che pensavano, e ovviamente non funziona così qui, no? E quindi ci si aspettavano un diverso tipo di lettera, magari, da questa parte, no? E quindi là, al primo momento, mi hanno rifiutato. Però dopo, ovviamente, essendo in contatto con il professore, si è riusciti a entrare, no? Stessa cosa è successo all'Inyu. Applicai per un post-doc e veni rifiutato anche lì. Quindi io ogni volta devo provare, no? Poi ovviamente, cosa è successo? Anche là, conoscendo il professore, si entra, no? Vabbè, quindi sono, bu, raccomandato? Non lo so, magari, bu. Ma comunque, sì, questa cosa del... Perché altrimenti qua in America c'è la cosa normale è che devi andare a applicare a dieci diversi istituti, no? E poi vedi in quale puoi andare, no? Sì. Non so, io ho applicato uno, mi hanno rifiutato, ci sono riapplicato di nuovo, ci sono entrata, no? Però vabbè. Comunque, come sono arrivato qua, no? È simpatica questa cosa, l'aneddoto. Per il mio compleanno, il 2 giugno, nel 2017, mi è arrivato un messaggino, un sms, da Ian, che mi scrive, ehi, vuoi venire a fare un postdoc con Kyungyung e me alla NYU? E gli risposi, ok. Ci credo. E così è successo, no? Che bello regalo di compleanno, tra l'altro, no? Ero molto contento. Io comunque, io ho pensato anche a un pesce d'aprile. Uno scherzo. Sei molto fiducioso dell'umanità, ecco. E così, no? Così entrai alla NYU di nuovo a seconda iterazione. Però almeno questa volta non dovetti riapplicare, no? Venni chiamato dall'alto, no? Vabbè. Comunque, mi spostai qui e quindi io non decisi mai di venire a New York City, ma New York City in qualche modo mi ha attratto, no? E tra l'altro all'inizio è molto difficile trovarsi a proprio agio in questa città, credo, è da dirsi, no? Perché praticamente, se volessi fare una comparazione, un'analogia, sembra di essere in una Macedonia, no? Ognuno è diverso, no? È tutto molto colorato, sono tutti molto diversi. E all'inizio è molto difficile trovare un certo tipo di appartenenza, no? Perché nessuno, cioè, sono tutti molto diversi, no? Ma in Italia sono più o meno, magari, omogenei, ma no. E quindi all'inizio c'è un senso di distaccamento, magari, dal resto delle persone. Però un po' dopo, praticamente, ti abitui a questa diversità e diventa quasi un punto di forza, no? Non senza quasi, diventa un punto di forza, no? Ognuno è libero o può essere se stesso e appartiene a questo posto che sono diventato, e lo chiamo casa, no? È fantastico. Tra l'altro, i miei studenti, adesso sono la mia famiglia, ci si vede ogni giorno, si va in spiaggia, si va a fare sport, si va in bicicletta. Si sta molto bene, per dire la verità. Erope, ovviamente, essendo tutti nella stessa situazione, no? Siamo tutti immigrati, no? Allora ci si aiuta, no? A vicenda, no? Quindi siamo una grande e bella famiglia, per dire la verità. Comunque, passando all'università, no? Cosa faccio qui? All'inizio veni assunto come direttore della... Come dire? Come si coordinatore della guida autonoma. Era una collaborazione, è una collaborazione tra la NYU e la NVIDIA, la sezione autonoma di NVIDIA. E questo è quello su cui mi dedicai i primi anni, quando venni qua, e scrissi un paper, un articolo scientifico, su come guidare un veicolo, predicendo il futuro, e poi minimizzando qual è la possibilità di andare a cozzare contro altri veicoli, oppure andare fuori strada, no? La cosa interessante è che qua ci sono due componenti, da un piccolo, così, come si dice? Sì, sì, qualche hint, no? Ok. Sono due componenti. La prima componente è quella del modello predittivo, che ti permette di vedere nel futuro dove saranno le posizioni dei vari veicoli nella scena, no? Quando tu guidi, se guidate un scooter o una macchina, voi avete, quando arrivi all'incrocio, hai già la preveggenza, in qualche modo, di... Ti aspetti, no? Che i veicoli continuino con la stessa velocità, più o meno, perché hanno una certa massa, no? Quindi esce l'inerzia, e quindi se il veicolo sta andando avanti, probabilmente andrà ancora avanti in quella determinata velocità, no? Se c'è un pedone che si sta approcciando alle strisce pedonali, immagini che quello vada avanti, no? E quindi, praticamente, tu nella tua mente hai, praticamente, una premonizione di dove questi agenti, no? Si troveranno nei prossimi due, tre, cinque secondi, e con tale conoscenza tu puoi decidere quali azioni vai a compiere in modo tale da riuscire a non, appunto, a cozzare contro un pedone o un'altra macchina oppure andare fuori strada, no? E quindi, sì, ci sono questi due componenti, la componente di predizione più la componente, poi, di minimizzazione del rischio di collisione con altri veicoli e altri agenti. Comunque, questa era la cosa iniziale su cui ho lavorato, e poi, invece, mentre, appunto, questa era la cosa per cui sono stato assunto, ovviamente mi sono fatto volontario, no? Mi sono offerto volontario per per insegnare il corso di Jan, no? Perché Jan insegnava questo, si chiama Flagship, no? È il corso principale di, che abbiamo qua al Courant Institute. Quindi, learning, giusto? Il corso, sì, il corso su apprendimento profondo, o deep learning. E all'inizio, diciamo che il corso era un poco grezzo. Classico, a noi ci piace di che è classico. Classico. Cosa succede, no? Ovviamente, ognuno di noi ha un certo determinato budget di tempo a disposizione, no? E ognuno decide come andare a occuparsi, come andare a, appunto, a spendere il proprio tempo, no? E l'educazione, ovviamente, è qualcosa che non paga, che non è incentivato, che non ti dà assolutamente nulla, o ti dà soddisfazione, per amore del cielo, però non ti dà nulla dal punto di vista del curriculum vitae, o molto poco. Invece, quello che ti manda avanti sono collaborazioni con altri ricercatori, scrivere articoli, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, il corso non è, diciamo, è il classico, ok? Abbiamo detto questo termine, no? E quindi, io mi offro volontario di dare una mano a mettere un po' le cose a posto, diciamo così. E all'inizio insegnai con il mio collega, con cui scrissi l'articolo, su questa guida autonoma, e poi, invece, andando avanti, diveni l'unico responsabile della parte, delle parti di laboratorio, e poi, andando ancora un po' più avanti, mi sono un po' preso cura dell'intera struttura del corso, dei compiti per casa, degli esami, del progetto finale, delle esercitazioni di laboratorio, e poi, adesso, finalmente, in questo ultimo semestre, mi sono anche occupato della scaletta, no? Di organizzare il contenuto in modalità tematiche, no? Ovviamente, così, un po' più partizionato, in modo tale che la gente abbia un filo logico che vada dall'inizio verso la fine. Perché prima erano un po' le cose, erano un po', magari un po', non decisamente, non troppo sequenziali, diciamola così. Tra l'altro, tra l'altro, cosa è successo quest'anno? Quest'anno ho deciso di cambiare un po' l'ordine delle cose, e quindi abbiamo insegnato una cosa che si chiama energetici, come componente base del corso. E quindi, ora, per la seconda parte del corso, dove in teoria si devono insegnare le cose più avanzate, devo insegnare le cose meno avanzate, però abbiamo questo nuovo ingrediente di questi modelli energetici, che mi cambia completamente la prospettiva con la quale io guardo queste stesse cose, no? E quindi mi sono ovviamente deciso di, ho deciso di cambiare tutte le varie slide che ho fatto l'altro anno, e riformularle in chiave di, in diverse chiave di lettura che utilizza questi modelli energetici, che si dimostrano essere molto, molto flessibili e ti permettono di connettere moltissimi diversi temi assieme. Tra l'altro... Senti, noi, vai, scusa, mi inserisci, noi avevamo un format che abbiamo potuto lanciare qualche tempo fa, ma non è andato benissimo, che era l'ospite spiega in 60 secondi un concetto difficilissimo, quindi lo risperimento con te, ci dici in 60 secondi cosa sono i modelli energetici, scusa, ho sbagliato io, non so più parlare italiano nemmeno io. Ok, ok, i modelli energetici sono abbastanza semplici da spiegare. tu hai dei vettori che possono rappresentare delle immagini, ad esempio, oppure degli audio, dei pezzi audio, oppure dei vari tipi, o testo, possono essere delle stringhe di testo, il tuo modello energetico, se funziona correttamente, deve darti valori bassi, questi devono essere valori bassi qua, se questi valori, se questi elementi su cui computi l'energia, sono elementi che vengono dal tuo set di immagini, se tu hai una collezione di immagini, tutte le varie immagini che tu hai nella tua collezione devono avere energie basse. Se poi adesso ti arriva un'altra immagine che non appartiene al tuo set e che è molto diversa, allora queste cose che non appartengono alla tua collezione di immagini devono avere energie alte, no? E quindi questo modello energetico semplicemente ti dà valori bassi per punti, per valori, per immagini, suoni o testi che sono buoni e i valori alti se non va bene, no? Questa cosa è figa perché a un certo punto tu ti ritrovi con un fazzoletto praticamente e tu sai se su questo fazzoletto puoi andare sempre nella parte bassa per trovare le cose buone, se invece vuoi trovare le cose cattive vai via dalla parte bassa e vai nelle parti alte e quindi questi modelli energetici semplicemente questa cosa qua hai un valore scalare appunto questa altezza del fazzoletto che sta alta per le cose cattive e sta bassa per le cose buone. Ti ringrazio, tra l'altro senza effetti speciali è un po' come vederti cantare come si dice a cappella e come come mai quest'anno questo ciao sono sicuramente diciamo è un oggetto che esiste da tantissimo tempo quindi per curiosità come mai quest'anno avete deciso di ristrutturare tutto il corso attorno a a questo concetto? Perché il semestre scorso finalmente ho capito come funziona no? Poi ho visto che Ian è sempre stato abbastanza appassionato di questa visione ma io non capivo cosa succede? Hanno un fondamento teorico un po' più impegnativo se si vuole andare a fondo giusto? però c'è un concetto hai anche come si dice la possibilità di vedere queste cose a livello intuitivo e questa e ragionare in questa chiave intuitiva ti permette di di come si dice di ottenere algoritmi cose varie che non devi dopo puoi scrivere giù matematicamente come funzionano ma all'inizio non devi per forza di cose arrivare alla come si chiama a pensare a livello matematico puoi pensare semplicemente a livelli di altezza io penso a livello del mare se a livello del mare tu puoi avere le cose le mandi giù a questo livello e altre cose le mandi su e poi appunto puoi ad esempio pensare a usare questo stesso tipo di ragionamento per analizzare tantissimi altri tipi di apprendimento ad esempio una cosa molto popolare adesso sono questi self-supervised learning oppure apprendimento automatico autonomo non ce l'abbiamo in italiano ancora non te lo so dire ok sarà apprendimento autonomo credo non so qualcosa del genere dove tu lasci una rete neurale che si impari le cose da sola e puoi sempre cercare di esprimere come queste cose funzionano sempre utilizzando questi termini energetici e anzi cercando di sparare di convincere la lenta 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 come si chiama interezza no in ok la tutti 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 ok non so più parlare cercando di convincere tutti da 35 anni no lui 35 anni fa scrisse questo articolo no sul riconoscimento delle cifre con una rete convoluzionale e i modelli ad energia no ovviamente dopo 30 anni la gente finalmente ha capito che le reti convoluzionali sono una cosa buona no ma non ha capito che le robe energetiche hanno alcun tipo di di utilità no e quindi lui sta adesso cercando di combattere questa 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 battaglia no dove cerca di spiegare alle persone perché devono essere interessate a utilizzare questi modelli energetici e quindi entro io dentro in gioco adesso e mi metto là come come no non palladino della legge ma mi metto a combattere con lui no e come si fa a fare questa cosa no le fai con video molto belli che sono cioè belli sono accattivanti che sono belli da guardare e ti divertono in modo tale che la gente li guardi solamente per prima cosa per curiosità e per e per vedere cosa succede no e poi invece tu automaticamente impari queste cose che sono semplici alla fine se spiegate in modo opportuno no se non sono spiegate in modo opportuno allora sono meno semplici no e così sul belle abbiamo anche una validazione direttamente dai commenti di youtube quindi adesso ci sono le slide delle animazioni più belle di youtube grazie ovviamente non non fatevi problemi a scriverci tenteremo di proiettare un po' tutto c'erano anche altri saluti che abbiamo un attimo saltato senti io volevo ricollegarmi un po' al una cosa che hai detto prima perché cioè io e Vincenzo siamo siamo all'università fondamentalmente e è un percorso come il tuo è particolare no un ricercatore che sta nel cuore del di quella che è la ricerca forse più più intensa di quel momento e decide di dedicarsi quasi completamente alla didattica poi no che è bellissimo però diciamo è particolare perché proprio mi immagino che qui in Italia avresti avremmo se io decidessi per esempio di fare una scelta del genere al di là che non saprei mai fare i tuoi video no però avrei un po' di resistenza anche dall'università forse o da da come sono fatti i sistemi diciamo di incentivi qua tu hai visto qualcosa di simile anche negli Stati Uniti insomma pensi che l'università ti sia dietro pensi che ci sia qualcosa da rivedere in questo sarà interessante apriamo la scatola di Pandora adesso ce l'avevo me la dovevo togliere dalla scarpa al senso non ci sono incentivi per l'insegnamento e quindi la come si chiama l'opinione corretta di quello che faccio io è pazzia io sto puntando completamente la mia carriera magari la mia vita eccetera metto in gioco questa cosa ovviamente l'unica cosa che ho su qualcosa che non è fatto troppo bene magari o a sufficienza in questi giorni che sarebbe appunto la divulgazione e poi l'insegnamento c'è un problema principale in questo campo che abbiamo adesso è il livello di rumore abbiamo 150 nuovi articoli su archive è un sito internet dove i vari autori postano mettono i vari articoli scientifici con 150 articoli nuovi ogni santo giorno diventa tanto tanto rumore ci sono tanti articoli che non dovrebbero essere stati scritti in primo luogo e poi ovviamente cosa succede c'è anche tanta gente che cerca poi di spiegare le cose su youtube eccetera che purtroppo non ha le idee molto ben chiare e quindi queste persone che magari sono che fanno le cose magari anche in buona fede ma alla fine vanno a aggiungere in più questo che è un rumore che diventa ancora più rumoroso e quindi alla fine se uno vuole cercare di capire come funzionano le cose e trova delle difficoltà perché non sa da dove girarsi non c'è un certo tipo di magari direzione principale da prendere e poi invece qua in myu abbiamo persone che sono appunto un po' più senior un po' più con esperienza con 30 35 anni di esperienza e un touring award che forse hanno una più chiara idea di dove andare in che direzione andare però non possono comunicare con l'interezza del mom perché sono persone che hanno vite normali e hanno impegni normali o anche meno normali sono occupati sono sempre occupati e hanno altre mansioni ad esempio mandare avanti anche un laboratorio di ricerca in una compagnia e quindi tu ti ritrovi qua all'anyu con menti che sono brillanti trovi colleghi che sono fantastici e tutto questo un po' di fantasticità che hai a disposizione e cosa fai? Te la tieni per te? No non mi sembra giusto questa cosa e quindi veramente mi sento obbligato a questo punto a livello morale di dover condividere con il resto del mondo a questo punto perché siamo appunto digitali adesso queste istruzioni questi insegnamenti che ti permettono poi di far avanzare il livello della della come si chiama istruzione tecnica a livello globale e tra l'altro in questa direzione per appunto per essere accessibili a qualsiasi tipo di per essere massimamente accessibili ho avuto il mio corso tradotto in adesso sono 16 lingue tra il russo francese italiano lo spagnolo abbiamo il giapponese il cinese abbiamo diversi dialetti indiani abbiamo il coreano c'è il vietnamita abbiamo cosa c'è ne sono tanti no? le traduzioni e tutto è fatto gratuitamente da una comunità online che ovviamente saluto sono tutte le persone che mi seguono adesso siamo arrivati a 20.000 persone che mi seguono e quindi c'è un certo livello di come si dice responsabilità bravo bravissimo da grandi poteri derivano grandi responsabilità citazione di Peter Parker sì esatto il fatto appunto che adesso mi sono messo in mezzo a sta cosa e mi sento appunto obbligato nel continuare questo tipo di battaglia se vogliamo chiamarla così che mi permette appunto di essere da tramite per il trasferimento dell'informazione no e sta cosa ha preso la mano no e fa conto appunto adesso c'ho un team di 500 interpreti che mi sta traducendo il corso no solo che questi 500 interpreti vogliono tutti alla fine mi chiedono delle domande no e se hai 500 persone che ti contattano al giorno si fanno molto poche altre cose no e poi adesso ho appena aperto un server su come si chiama Discord per seguire gli studenti che non sono a NYU ma i studenti che seguono il corso ma non sono all'università anche qua aggiungiamo un altro tempo che vado a dedicare così per beneficenza praticamente no e si alla fine appunto si si non c'è molto altro tempo per il resto ma visto che l'hai descritta un po' come una crociata no scusa però è vero perché è vero come sta andando questa crociata insomma in questi anni ma è un po' d'anni che andiamo avanti poi c'è stato questi due anni in cui siamo rimasti tutti a casa e credo che la quantità di cose online sia aumentata diciamo noi abbiamo fatto un podcast però come noi ce ne sono tanti che si sono buttati online insomma come ti sembra che ci sia ancora più rumore ti sembra che stiamo ora avendo come te altri contenuti belli c'è ancora da lavorarci allora il problema vuoi insultare qualcuno sentiti libero siamo in italiano non ci seguono dagli Stati Uniti allora se hai un problema prima quando eravamo in persona in live se aggiungi la parte remota digitale poi hai un problema che diventa digitale non è che se poi passi dal reale al digitale che le cose si automaticamente mettono a posto il problema c'era prima che era il problema della comunicazione il problema c'è anche dopo ma in più la cosa in addition come si dice la cosa in più è che complichi le cose perché poi le persone devono avere delle ci sono altre cose da prendere in considerazione tipo l'illuminazione le luci la luce qua davanti di fatto mi vedi c'è un faretto e dei supporti per registrare i video i microfoni se tu cerchi di fare di far video eccetera senza queste cose i video sono bruttini se poi hai un audio orribile non si capisce niente tra l'altro perciò se prima c'erano problemi di comunicazione senza questa aggiunta di complicatezza digitale adesso si diventa una cosa peggiori le cose mi sembra a mio avviso tra l'altro una cosa che potrebbe essere fatta bene se uno ci avesse messo un po' più di impegno sono ad esempio le conferenze virtuali dove hai queste sessioni di queste le town come si chiamano quando vai a vedere i poster ci sono queste 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 poster virtuali le town halls ok che potrebbe era una bellissima idea magari se se qualcuno ci lavora solo un attimino un po' di più ma se le cose vengono fatte a tre quarti a un quarto allora diventano ancora peggiori perché se ad esempio io per vedere ogni poster per vedere il titolo del poster devo andare dentro ognuno di questi poster io non posso più andare avanti come facevo prima a guardarmi i vari titoli io quando vado le conferenze parto da una parte della stanza e cammino senza fermarmi e guardo tutti i titoli e tutti i poster perché ci sono nella sessione in modo tale da capire se qualcosa mi interessa e da vedere a colpo d'occhio se qualcuno è capace di dirmi qualcosa se io vedo un muro di testo o diagrammi con solo matematica o un poster con solo matematica o roba che è illegibile io automaticamente salto non voglio mettermi a perdere tempo a cercare di estrarre informazioni con le pinze da persone che non sono interessate a comunicare però adesso quella cosa la facevo prima in un modo più o meno efficiente in 5-10 secondi che passi davanti al poster reggi il titolo guardi le immagini vedi se riesci a estrarre qualcosa adesso invece devi andare ogni poster devi entrare dentro quando entri dentro ti appare il video ci sono altre persone che ti vedono guardi il titolo guardi non si capisce niente la gente ti saluta ti riconosce no? no non si può fare queste cose io non posso più guardare i poster e quindi cosa faccio non guardo i bioposter no? perché mi esaspero dopo no? e quindi non voglio esasperarmi no? quindi queste cose qua che succede? hai pensato all'impermeabile come faremo che impermeabile? a nasconderti meglio no stanno arrivando nel frattempo diversi commenti su YouTube se vogliamo adesso possiamo prendere qualcuno per esempio c'è un commento di Antonio Rossi anzi una domanda più che altro Antonio chiede in tema università per un percorso accademico quanto è importante laurearsi nei tempi? non esistono fuoricorso tra i top? qua nessuno sa se sei fuoricorso o meno per dire la verità ognuno ognuno di noi ognuno di noi la NYU viene da diverse da diverse come si chiama da diverse realtà no? quindi io italiano contro uno francese contro uno russo eccetera no? nessuno gli frega una banana per quanti anni sei fuoricorso o meno quindi essere fuoricorso non ha nessun tipo di correlazione con il con il mondo accademico credo di ricerca a questo punto no? in Italia credo che era appunto era magari una una cosa che te la tenevi con magari con come si dice? o con orgoglio tipo di aver fatto tutto in tempo magari sì sì poi invece non c'entra nulla tra l'altro tra l'altro la cosa che forse è un po' fastidiosa tra virgolette il mio studente di dottorato lui è venuto a fare il dottorato dopo aver finito la triennale no? no? e tra l'altro questi per queste altre realtà loro incominciano vanno all'università quando hanno 18 anni non 19 no? eppure in altri paesi tu puoi saltare anni no? uno può decidere di saltare 2-3 anni di scuola superiore e vai all'università a 16 anni no? 17 anni no? anche 16 sì e quindi tu ti ritrovi questi bambini a 20 anni che incominciano a fare il dottorato no? e te sei oh oh quindi alla fine non importa no? e poi dopo non si dice più l'età no? quindi sì di questo è un gran secondo me bel messaggio anche che Alfredo sta comunque ripetendo in questa intervista del valore della diversità che per esempio anche in questo semplice esempio si palesa no? cioè il fatto di avere percorsi diversi con tempi diversi partendo da estrazioni culturali diverse nazioni diverse eccetera può solo essere un valore aggiunto non può essere un elemento negativo determinante come per esempio che può tendere ad escludere qualcuno solo in funzione del fatto che abbia perso del tempo per qualsiasi altro ragione per esempio possiamo passare anche direttamente a una domanda che volevo farti Alfredo sui tuoi interessi anche collaterali che sappiamo essere ampi abbiamo anche menzionato questo soprattutto questa passione per la cucina per la danza ecco per esempio queste sono tutte cose belle che ovviamente potrebbero anche deviare a un certo punto qualcuno da una sua vita professionale ad un certo momento per diverse ragioni ecco tu come ti sei peraltro diciamo affezionato appassionato a queste due diciamo hobby discipline non so come poterle chiamare allora sono tre tra l'altro c'è anche la musica no? ah ecco si dimenticava suono suono la tromma da quando avevo sei anni no? e quindi adesso è una vita che suono sta cosa no? e durante il dottorato di ricerca visto che era in indiana dove non hai possibilità di svago che almeno se non hai una macchina no? non vai in nessuna parte dove ero a Chicago ha quante tre ore tre ore di macchina sì sono tre ore in su tre ore in giù quindi sono sei ore di macchina no? e quindi cosa fai no? al posto di di spararti no? fai ballo no? a un certo punto durante il mio dottorato ballavo quattro ore al giorno ogni giorno e facevo competizioni ho vinto titoli sia nei latini che negli standard poi facevo anche parte del team di salsa che appunto sarebbe tipo il ballo sociale invece non competitivo poi avevo una latin band facevamo concerti due concerti al mese più o meno e la cosa interessante che vabbè piccolo aneddoto questi qua mi dicono no? suoniamo questo questo canzone no? faccio ok dove è lo spartito? mi fanno spartito noi non leggiamo le note va bene e come si fa a imparare la cosa? ah qua c'è l'MP3 no? e quindi benissimo ho cominciato a imparare come si fa a trascrivere le cose che non sapevo e magari con l'intelligenza artificiale uno può darsi una mano no? può avere qualche una bozza no? prescritta da semplicemente da una rete neurale no? non dovrebbe essere troppo complicato come modello da destrare e quindi sì la musica e la danza eccetera erano modi per tenermi sano di testa perché altrimenti l'esperienza della Purdue non è esattamente positiva perché 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 era appunto sia sperduta nel mezzo del del nowhere no? dei 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 panocchie no? ora sei felice che siamo in italiano vero? no vabbè ma è una cosa che si diciamo abbastanza comune come come conoscenza per chi frequenta cioè Purdue è un bellissimo campus tra i più rinomati peraltro d'America perché con investimenti massicci mi pare sia la quinta università pubblica pubblica più grande diciamo rinomata d'America però effettivamente è esattamente in mezzo al nulla dell'indiana tra Chicago e Indianapolis quindi effettivamente per trovare anima viva bisogna muoversi due tre ore verso Chicago due tre ore verso Indianapolis quindi in un'area che per dire come se fare un giochino da Roma a Milano non c'è nulla per tutto il raggio di Roma Milano intorno quindi è come se non esiste l'Italia solo Roma e poi devi andare fuori dall'Italia per trovare qualcosa da fare comunque ecco sono giusto un piccolo escursus e la cosa più terribile è che la qualità del cibo è terribile no? e quindi cosa è successo? noi ogni fine settimana tutti gli italiani della Pordù quarantina di noi si veniva a cena a casa mia e ovviamente io cucinavo non sempre 40 ci sono state poche volte dove non c'erano tutti 40 a meno di quelli che conoscevo ma altrimenti sulla sicuramente dozzina di persone che veniva a cena e quindi si cucinava abbastanza e ogni volta è diverso e poi tra l'altro questi qua facevano la spesa loro quindi almeno mangiavo gratis e quindi là ho fatto pratica sicuramente di cucina ho fatto grandi amicizie ovviamente con persone da tutto il mondo perché appunto siamo tutti immigrati e quindi te ti ritrovi con altre gente che ti chiede ma come fai a cucinare italiano per me è la cosa più semplice non so cucinare altro che italiano però questi qua guardano imparano e sono tante cose che sembrano ovvie logiche per noi che poi non lo sono fuori dall'Italia mangiare bene non è una cosa non è una cosa scontatta tra l'altro quello che capii quando andai in Inghilterra era un disastro per un anno io avevo problemi a mangiare che non ho mai avuto problemi hai mangiato patate salsicce chips e fin possiamo perdere e così quindi la cucina appunto per sopravvivere per mangiare qualcosa di decente per la musica per scappare dalla realtà dell'università di dove ero e tra l'altro questi concerti che facevamo erano interessanti e mi permettevano anche di essere di mettermi in mostra di essere sul paico scenico quella è sempre stata una costante della mia nella mia vita quando ero in Italia suonavo nei vari teatri o con la Rai per varie opere oppure con la mia orchestra di fiati sono sempre stato appunto sul palco scenico eravamo dietro le quinte cioè sono come si chiama qualcuno che è performer non so come si dice qualcuno che appunto si 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 e per chiudere Alfredo poi dopo sei riuscito in un qualche modo a mettere insieme tutte queste due passioni magari dentro poi insomma la didattica, il machine learning, l'informatica oppure rimangono cose abbastanza separate La danza, la musica e la cucina per il momento sono completamente separate dal lavoro e quindi mi permettono di scappare, di uscire da queste cose che faccio, perché ogni tanto devi prenderti una pausa. Il punto è che se sei un accademico non hai mai pause, tu sempre vai avanti all'infinito e quindi a un certo punto io cucino, lascio tutto per un'ora, mi metto ai fornelli, comincio a fare le varie cose, non c'è il computer, non ci sono le varie cose. Però d'altro canto, quello che invece sta per succedere molto presto è l'utilizzo dell'AI, dell'intelligenza artificiale nel campo dell'educazione. Lì ho un'idea magari per una startup e magari adesso mi metto a fare alcune applicazioni per Android e varie cose che ti permettono di facilitare quello che è poi l'insegnamento. Sono capace di fare queste cose perché appunto ho sia l'esperienza tecnica che poi l'esperienza del campo e quindi posso semplicemente mettere le due cose assieme e credo che è una cosa che appunto succederà molto presto. Questa quindi è una notizia bomba, io non ero assolutamente a conoscenza. Lo sai che se lo fai poi l'anno prossimo comincio a scriverti per invitarti di nuovo, vero? Per me è un problema. Non rischi un po' Alfredo poi di comunque perdere un po' il focus dalla didattica, facendo questa altra attività più imprenditoriale. Non so che forma di idea avevi in mente, che titolo saresti coinvolto, però anche a me piacerebbe molto riuscire a toccare anche quegli aspetti lì più di imprenditoriali. Però so che rubano molto tempo, ecco, quindi volevo capire che idea avevi. Se le vuoi condividere, poi non è obbligatorio rispondere. Queste cose saranno prese da me molto lentamente, no? Comunque poi tra l'altro adesso il corso sta online, no? Adesso sto finendo di mettere vari video e varie animazioni, no? Quindi il grosso delle cose le ho fatte, no? Da questo semestre, dal semestre, come si chiama, dell'autunno, le lezioni saranno di nuovo in persona, no? E quindi non avrete più il mio orsacchiotto, le varie luci, eccetera, qua. A meno che non vado a registrare alcune lezioni, no? Quelle nuove, se faccio lezioni nuove, allora mi ritroverete qua a registrarle, no? Perché ovviamente non voglio scappare dai miei studenti online, no? Però ovviamente, appunto, tornando in classe, le registrazioni sono di nuovo a qualità più bassa, no? Utilizziamo delle telecamere che sono messe dal... Sì, in streaming, semplicemente. È orribile, sì. Quelle in classe sono terribili, no? Senti, quelle dell'MIT sono, diciamo, piacevoli, perché hanno anche questa... Non so se l'hai mai vista quelle di Lex o altri, insomma, che comunque almeno hanno l'accortezza, no, di mixare, mi pare, anche le slides al... Qui non c'è nulla. Quello che ho fatto qua, io mi sono praticamente appropriato delle registrazioni che erano solo per uso interno, no? E le ho editate e ho fatto tutto da solo, no? Quindi, tra l'altro, quando ho messo il corso online l'altro anno, io ero pronto a perdere il posto di lavoro, no? Io ho fatto tutto senza chiedere permessi, no? Ah, ok. No, certamente, no? Perché se avessi chiesto permesso... Non l'avrebbero mai dato. No, no, sarebbe stato negato, no? Esatto. Però il corso è online, cosa faccio adesso? Ah, allora lo teniamo, ok, grazie. Hai preso un po' della filosofia del move fast and break things. o così o niente, no? Cioè, veramente, guarda, a questo punto il corso era registrato e il corso era già registrato, le varie lezioni erano là, la va, la spacca, no? E' bravo, molto coraggioso, Alfredo, grande. Senti, noi siamo sommersi di domande, quindi ora faccio il possibile, ma tu sentiti libero di rispondere in modo perentorio, perché anche noi abbiamo ancora un sacco di cose che vogliamo provare a chiederti. Allora, comincio così, c'è Pierpaolo che ci scrive se tu come ricercatore consiglieresti di fare un PhD part-time. Passato mi è stato offerto diverse volte full-time, ma poi ho preferito lavorare in azienda. Lo sappiamo, Pierpaolo, solo a noi non ci piacciono i soldi. Noi lo diciamo sempre. Al momento, non credo ti serve, non serve un dottorato per lavorare con AI, eccetera, no? C'è, ad esempio, Alec Redford, che credo non abbia neanche un master, no? Mi sembra che sia un undergrad, ha fatto la triennale, no? E poi è andato a fare, lavora per la OpenAI, no? E guadagna abbastanza, diciamo così, no? E ci sono tantissimi altri, no? Che hanno strumentemente... Quell'altro, no? Adesso che ha scritto il paper, aspetta, come si chiama? Dalli, no? L'ultimo paper della OpenAI che ti permette di disegnare... È un modello generativo che ti permette di creare immagini spettacolari dato che tu gli dai una descrizione, no? Ad esempio, una sedia a forma di avocado, no? Una cosa simile. Oppure un maialino che vola nel cielo, no? Tu scrivi una frase e lui ti spara fuori quella che è la... Come si chiama? Il disegno di sta cosa, no? E sono fatte molto bene, no? Se appunto dopo guardate online si chiama D-A-L-L-E-Dalli, no? Sì, peraltro abbiamo anche discusso, no? Ti ricordi, Simone, in uno degli episodi precedenti? Adesso non ricordo con chi, ma era stato, diciamo, molto dirompente, no? Come notizia, quindi... Sì, 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 sì. L'abbiamo discusso, sì. Lui era un undergraduate, no? Era uno studente della triennale quando io ero un postdoc qua, no? E poi appunto lì finì la triennale appunto la undergraduate e andò a lavorare per OpenAI e adesso si ritrova là a fare queste cose spettacolari. Un'altra persona, no? Che aveva solamente al suo tempo solamente un diploma... Non un diploma, come si chiama? Un titolo della triennale era il mio studente Adam Paschke che ha creato poi PyTorch, no? Nel 2016. Tra l'altro... L'altro giorno che era una conferenza mi hanno chiesto Ah, ma usi PyTorch? Sì, sì. L'ha fatto il mio studente, l'ha fatto, vabbè. E sta cosa adesso è usata da tutto il mondo, no? E quindi mi sembra che come studente della triennale abbia fatto un buon contributo al campo senza appunto avere... Anzi, per dire la realtà zero nozioni di machine learning, no? Lì non fa machine learning fa semplicemente ingegneria e delle software, no? Quindi rispondendo al... a chi ha fatto la domanda precedentemente vuoi andare a farti il dottorato? Serve? Non credo, no? Se il tuo obiettivo è quello di lavorare nel campo della ricerca in un'azienda, no? Credo che non sia necessario. Se vai a fare un dottorato vai a spendere del tempo per... magari appunto senza essere ritribuito o essendo ritribuito in parte e poi magari sta cosa non vale... il gioco non vale la candela, no? Come si dice? No, il gioco non vale la candela va bene, è giusto. È giustissimo. Noi, c'è Alessandro Ferrari che è stato effettivamente il nostro ospite in una delle prime puntate che ci scrive... che è super finale di stagione e sì, di da lì ne abbiamo raggiunto il mio episodio era appena uscito qualche giorno prima. Sì, e il ragazzo si chiama Aditya Ramesh è l'autore, no? Siamo ragazzi. Io faccio il possibile con tutti i commenti comunque abbiamo Valerio che ti vuole ringraziare tra virgolette di persona per i corsi e questo insomma e abbiamo un altro grande Alfredo da Francesco e mi fermo un attimo poi tanto lascio... Non ti ha detto, non ti ha detto Io ho una domanda mia insomma è un po' difficile però io ci provo noi abbiamo avuto un sacco di ospiti dalle aziende a cui abbiamo chiesto insomma tantissimi progetti di AI quali gli hanno gli sono piaciuti di più quali gli hanno delusi tra virgolette te che invece insomma hai dedicato tanto tempo alla didattica provo una variante di questa domanda e qual è stata la tua esperienza didattica insomma che ti ha veramente sorpreso di più se si può rispondere a una domanda di questo tipo e quella che ti ha deluso invece un pochettino Partiamo della delusione che dopo... Senza nomi ovviamente sei una persona specifica La delusione nasce dal fatto che sebbene io faccia lo scemo lo simpatico eccetera e quindi mi prenda non mi prenda sul serio e cerco di far sorridere eccetera ma questo non vuol dire che sono un idiota oppure che il mio tempo è gratuito oppure che non ci sia professionalità nel mio campo anche come si chiama i comici sono professionisti nel campo del far ridere e forse ogni tanto queste cose vengono magari mischiate e quando ci fu un workshop qua due anni fa che si chiamava ok noi lo chiamiamo lasciamo perdere il nome dove era fatto era organizzato per la divulgazione dell'AI per ragazzi che non appartengono al campo e quindi io mi preparai due lezioni di cos'erano otto ore in totale due due e due due quattro ore un giorno e quattro ore l'altro giorno quindi c'è stato tipo una due settimane o una settimana almeno di preparazione da parte mia per creare questo corso e cosa è successo loro hanno avuto tantissime registrazioni e hanno messo un limite al numero massimo di registrazioni le registrazioni erano gratuite quindi cosa è successo tante persone hanno detto ah sì veniamo e quindi hanno messo 20 e quindi il numero di registrazioni mi sono arrivate a 50 che era il limite e poi hanno bloccato dopo le 50 e quindi si sarebbero stati molti ma molti più possibili persone interessate ma ovviamente non c'era più spazio nella piattaforma queste qua erano lezioni in persona cosa è successo il giorno del workshop 10 persone si presentano allora io ho speso una settimana di lavoro che ho devoluto per questa cosa gratuitamente che per amore del cielo non ho nessun problema a fare beneficenza però dopo mi ritrovo a insegnare roba che ho preparato per una settimana a 10 persone solamente per il fatto che qualcuno non ha pensato di o mettere non so 5 euro per la partecipazione o di fare in modo tale che la gente veramente interessata si iscrivesse sta cosa qua ha veramente dato per le scatole perché stiamo mettendo un attimino in gioco il mio di tempo che non è utilizzato per fare altre cose te lo do a te e te me lo vai a sprecare e qui queste cose non vanno bene perché ovviamente faccio lo scemo ma non sono un buffone beh qua tocchi anche un nervo scoperto insomma anche in Italia come associazione tanto che facciamo proviamo a fare divulgazione effettivamente poi ti scontri con tantissimi campi in cui non è valutata così tanto non ha non gli è dato lo stesso valore alla divulgazione di quanti anni potrebbe essere dato a fare altre cose ecco quindi questa qua era una delle esperienze più più deludenti e frustranti che abbia avuto dove appunto vieni non preso sul serio oppure la gente che lavora attorno a te è meno seria di di quello che tu sei e quindi se tra l'altro appunto questi non hanno mi hanno detto ah sì non abbiamo mai avuto un corso simile prima ho capito la domanda se qualcuno ha più esperienza ti dà una mano d'altro canto invece mi ha chiesto invece l'esperienza più più bella l'esperienza più bella è stata quando andai a insegnare in Africa per due settimane sponsorizzato da Google e Facebook dove mi hanno dato un computer per studente noi avevamo cosa avevamo 25 studenti e ognuno dei studenti aveva il proprio laptop il proprio computer portatile con lo stesso setup quindi tutti hanno le stesse configurazioni ok non c'era internet ok ma non importa perché non c'è l'infrastruttura ma ok che non c'è l'infrastruttura di fatti dobbiamo scaricare il dataset che si chiama MNIST e non si può scaricare perché non c'è non c'è una connessione e la gente si connetteva ai laptop ai portatili col telefonino in qualche modo ce l'abbiamo fatta ma alla fine se c'è un capitale investito da compagnia in questo caso e c'è la voglia di fare le cose si fanno e veramente io per ho insegnato in due settimane qualcosa tipo 40 ore di lezione 4 ore al giorno per 10 giorni di file e si ragazzi alla fine del corso erano più o meno cotti ma felici e contenti perché si sono divertiti il divertibile in classe ovviamente perché appunto cerco di fare il simpatico e quindi si sono divertiti e mi hanno scritto una lettera di ringraziamento tra l'altro dove ci sono alcune frasi che veramente mi hanno fatto emozionare ad esempio una delle frasi che appunto voglio ricordare è resta chi sei continua a essere chi tu sei perché il mondo troverà uno spazio per te una cosa simile nel senso che non cambiare ma resta vero a te stesso e la gente cambierà e capirà il tuo valore oppure un'altra cosa che era simpatica era che noi ridendo scherzando siamo sparati 40 ore di lezione e abbiamo capito la maggior parte e sono cose che appunto fanno piacere perché appunto c'è questo riconoscimento del valore del sforzo che ci metti che impieghi e questo era fantastico ovviamente era gratuito anche questo non sono stato pagato però essere due settimane in Africa non sono mai state in Africa siamo andati anche a scalare un vulcano in una come si chiama una scalata che ha preso ci ha preso nove ore che alla fine non si sapeva neanche se si tornava se si fosse tornati a casa vivi o meno oppure siamo andati a un safari dove c'era eravamo seduti sul tetto della jeep senza nessun tipo di protezione e dove ogni volta prendevi un salto il culo saltava via dal tetto della macchina ovviamente ci sono altre realtà tra l'altro poi le strade non erano asfaltate era tutto in terra battuta le persone c'erano le donne con i caschi di frutta che camminavano in giro sono cose assurde ma cose che vedi solamente nei documentari e te vai là gli esperimenti in prima persona veramente guarda erano cose spettacolari che metà bastava grande bellissima esperienza io ho capito che eri andato a salare un vulcano ho avuto un flash di quando cucinavi sono troppo stanco e devo smettere di fare questa cosa no 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 poi questa esperienza l'avevi fatta con Ricci giusto? no no sì sì Ricci Ricci è un l'ho trovato lo trovai su youtube o altro nel 2000 ok perché mi eravate sembrati molto amici alla fine da quello che poi non lo so ipotiche 2017 lo trovai su youtube e lui mise online questi video su PyTorch prima che io lo facessi io ho dei video del 2016 di Torch quello fatto in Lua la versione precedente e poi invece lui nel 2017 mette questi video su PyTorch e quindi mi brucia mi frega il primato su questi video mi rodeva perché ovviamente sì li ha fatti prima lui di me e quindi lo incontrai appunto tramite youtube poi lui venne a una conferenza su PyTorch al 2 di ottobre 2018 a San Francisco e lì li chiesi ci si incontra e si vide di persona e gli chiedi vuoi venire con me in Africa fra due settimane no e mi fa ok che si ricollega un po' all'alto iniziale così siete tutti avete tutti questa fiducia dell'omai tra l'altro la cosa che non sapevo all'inizio pensavo fosse un poco di buono ma se uno prende decisioni così alla cazza al volo sì sì sti indiaspettati diciamo significa che probabilmente non va a scuola non lavora non fai a fare cose di mio poi scoprì dopo che lui è il CEO no e lui era era il come si chiama in italiano il amministratore delegato amministratore delegato di una compagnia finanziaria no dove applica deep learning per far soldi no e quindi questa persona già va lui essendo il capo fa quel cavolo che vuole no e dopo da lì ci si è sentiti ci si sente molto spesso per la verità no siamo molto siamo molto amici no e adesso si voleva lavorare come? no dico ci avevo azzeccato sulla vostra amicizia c'è un'amicizia molto molto profonda e tra l'altro adesso si vuole fare anche un corso assieme su deep learning e finanza assieme quante perle nuove questa ci stai rivelando un sacco di cose infatti un sacco di anediti fantastico senti noi stiamo andando un po' lunghi andiamo verso la chiusura direi ti ringraziamo del tempo ci spiace per tutte le domande che stiamo saltando ma alcune sono anche abbastanza lunghe quindi è un invito a tornare per rispondere a tutto quello che è rimasto abbiamo un ultimo se vuoi fare l'ultima domanda che credo sia l'ultima domanda che avete nella scaletta che credo sia sì 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 diciamo ci hanno anche chiesto dal pubblico quindi insomma ti lancio su questa era questa la domanda che volevi sì la domanda sul futuro no? quali sono le sfide? tu che l'hai visto insomma veramente da AlexNet e ci sei insomma finito in mezzo e hai visto questi dieci anni cosa vedi nei prossimi dieci? ci sono tre cose aspetti tre aspetti fondamentali a livelli della a livelli sociali a livello sociale vorrei dire no? la prima è la demistificazione dell'intelligenza artificiale no? c'è ancora adesso questa paura magari che si delle persone che non sanno di cosa si parli no? c'è questa paura che queste queste cose siano robot che poi ti vengono a inseguire che ti che sono vabbè che diventano in qualche modo che prendono che si cercano di conquistare il mondo eccetera no? quindi c'è la necessità di un livello di educazione a livello delle persone normali no? della popolazione non tecnica no? e quindi questa è una delle prime tre cose poi salendo salendo a livello tecnico dove abbiamo persone che sono hanno un grado di competenza matematica a livello delle superiori no? e con anche dei livelli di programmazioni che siano non si appunto sempre a livello delle superiori c'è la necessità di una evangelizzazione credo del del campo no? dove le persone possano mettere insieme qualcosa che funzioni se decidono no? se tu non sai che queste cose si possono fare allora non le metti assieme no? se uno invece ti spiega che queste cose si possono fare uno può mettersi in testa guarda oh provo a fare una cosa per vedere se mi mi porta un beneficio no? e quindi per questo ci sto lavorando con il corso no? e con il corso appunto che cerca di essere appunto globale in tutte le varie lingue possibili che riesco a farlo tradurre e se uno possa possono essere utili queste tecniche per sviluppare qualcosa che gli faccia renda la vita più semplice ben venga terza parte quindi al livello di competenza andiamo su dove a livello tecnico di ricercatori no? dice sempre sempre a livello sociale a questo punto c'è una necessità di organizzazione del contenuto adesso c'è sempre tanto rumore stavo menzionando prima 150 articoli che abbiamo al giorno su archive no? c'è una valanga di informazione non strutturata ognuno usa le proprie notazioni ognuno usa i propri diagrammi ognuno fa mette le cose a estro no? perché oh magari così è più bello magari così è più così e perché non c'è un tipo di omologazione un tipo di standard no? in questo campo per il momento no? sono ingegnere elettronico noi utilizziamo diagrammi dei circuiti con le varie resistenze resistori capacitori capacità non si chiamano condensatori hai gli induttanze i transistor hai tutti i vari simboli che possono essere utilizzati sono standard ISO e vengono utilizzati per comunicare l'informazione invece adesso noi nel nostro campo dell'intelligenza artificiale ognuno si viene in testa con nuovi metodi di chiamare le cose uno le chiama A uno le chiama B uno le chiama C sono la stessa cosa ma ognuno le chiama in modo diverso e quindi quando vado a leggermi questi articoli devo appena capire di cosa sta parlando quindi queste cose mi inalberano perché devo perdere tempo a capire il fatto che ognuno di questi diversi articoli che sto leggendo sono esattamente la stessa cosa e l'unica differenza è che uno fa un piccolissimo contributo però essendo ogni spiegazione diversa uno poi non capisce una banana no? e quindi questo è su quello che sto lavorando a livello della ricerca adesso prima lavoravo sulla guida autonoma adesso sto lavorando su un linguaggio grafico per la traduzione o per la spiegazione di concetti in modo standardizzato che forse possono aiutare a mettere un po' d'ordine nel campo wow questo è eccezionale Alfredo fantastica questa idea no no perché io mi ritrovo perfettamente come credo moltissimi di noi ricercatori in queste tue parole la necessità in un qualche modo di avere qualche linea guida comunque dare un senso diciamo a questo questo mare magnum di diversità che come abbiamo detto anche prima ha un valore ma che poi diventa un overhead troppo grande soprattutto se vogliamo mantenere questo lavoro accessibili a delle vite insomma con un tempo limitato no? quindi o si mette veramente come dicevi delle AI che poi può soprare da filtro e ti porta magari i paper rilevanti da leggere eccetera eccetera o appunto ti fornisci la didattica in un modo un curriculum diciamo progettato su di te sulle tue esigenze oppure effettivamente non è più possibile per una persona normale accedere a questi contenuti esattamente e quindi io vorrei riassumere la tua insomma la tua risposta con per il futuro dell'intelligenza artriciale quindi ci vogliono almeno 10 canziani ecco sto educando i miei studenti quindi guarda che vengono su dritti questi qua esatto poi c'è già qualche pupillo diciamo che potrà aiutarti sul corso in futuro oppure i miei due studenti di tutorato mi hanno aiutato tantissimo questo semestre adesso vediamo il prossimo semestre se sono sempre così disponibili ma veramente stavo anche pensando adesso di rilasciare gratuitamente apertamente i vari compiti per casa che così possono chi vuole farsi i compiti può veramente avere con mano come si dice esperienza sulle varie cose che facciamo qui e sì loro stanno seguendo le varie cose ascoltano almeno quello più giovane ascolta quello più non più giovane non ascolta troppo però vabbè una ultima cosa che non ho finito sul futuro dell'intelligenza artificiale a livello invece tecnico ci si aspetta adesso che in qualche modo la self supervised learning l'apprendimento autonomo senza supervisione in qualche modo aiuti a avere una una riduzione di quello che sono le varie necessità economiche per avere la etichettatura dei dati adesso come adesso il limite principale che abbiamo all'addestramento di modelli è quello di avere sufficientemente un livello di dati sufficienti che sono annotati perché l'apprendimento tramite apprendimento supervisionato è quello che sappiamo far funzionare l'apprendimento non supervisionato era una cosa che non si sapeva far funzionare fino a poco tempo fa e adesso sta finalmente prendendo piede con la self supervised learning con l'apprendimento auto supervisionato e quindi questo a livello tecnico è quello che mi aspetto come sfida principale su cui lavorare che appunto praticamente le varie industrie sono tutte là perché veramente ci sono tanti soldi dietro alla creazione delle etichette per i dati e quindi se puoi ridurre questo hai dei grossi grossi benefici a livello economico assolutamente grazie grazie Alfredo sono concorde con te peraltro penso che tu abbia appena coniato per la prima volta la traduzione di self supervised learning con l'eccellente apprendimento auto supervisionato che rende molto bene rende molto bene grazie grande Alfredo e io direi che ci avviamo verso la conclusione dopo un'ora e otto minuti della nostra puntata veramente ricchissima quindi grazie ancora per il tuo tempo Alfredo e come per i nostri tutti gli altri nostri invitati abbiamo preparato per te una piccola sorpresa consenticelo si tratta si tratta semplicemente di se riesco a beccarlo di una vignetta preparata dalla nostra co-host Viviana Palumbo che ti ha voluto illustrare qui sopra una macchina che credo si stia guidando da sola non so poi se farei una buona fine però sei tu lì accopacciato sul tettuccio di una macchina in movimento ci sta bene dopo la puntata che dicevi che sobalzavi dalla madre si è legato molto bene lo sapevamo abbiamo voluto da parte un pensierino se la forniremo ovviamente via mail successivamente grazie mille io ciao Alfredo io ti ringrazio tantissimo per la partecipazione era un anno che ti assillavo e sono felicissimo che siamo riusciti a fare questa cosa insomma seguite tutti Alfredo seguite i suoi corsi sono veramente di qualità eccezionale è un bellissimo modo di finire il podcast ora voglio giusto ringraziare anche tutti quelli che ci hanno seguiti questo quest'anno non so adesso questi mesi che siamo andati avanti insomma è stato un bel esperimento il podcast per noi in questo momento di pandemia per tentare di raccontare l'intelligenza artificiale insomma facendo parlare chi la fa veramente ecco chi c'ha qualcosa in ballo e facendo domande che fossero sensate penso che sia andata bene e mi spiace concludere come diceva Vincenzo la puntata 29 non con la 30 ma esatto ci consoliamo che è un numero primo no dai magari faremo un'ultimissima puntata magari per tirare le fila no Simone con gli altri co-host tutti insieme ci parliamo tra di noi esatto speriamo giusto per arrivare al 30 dai lascia dire una cosa ho anche sto scrivendo adesso un articolo che sto mandando fuori su come fare un corso come Dio comanda no e quindi sta cosa se magari se potrebbe essere utilizzata come anche guide linee guida no per avere una una scaletta su come questi qua sono un riassunto degli ultimi 10 anni miei di esperienza nell'educazione grande quindi la cosa sarà pubblicata non vediamo l'ora di leggerlo veramente secondo me è un contributo eccellente no no non credo esistano altre cose soprattutto nel nostro mondo quindi Dimash poi per altre cose non saprei però sicuramente è utilissimo anche per me Simone che tra un po' dobbiamo cominciare a sviluppare qualche corso insomma beh sicuramente 10 anni sono tanti penso che tu ne abbia vista veramente tante di situazioni soprattutto in un mondo così in evoluzione ecco tante delle domande che abbiamo saltato effettivamente erano sulla difficoltà sono scritte sul paper le risposte ve le ho scritte per rispettare il peso no ci sono tantissime appunto tantissime delle domande che avete che abbiamo lasciato fuori sono scritte per esteso su questo articolo che appunto vi darò il link quando diventa pubblico adesso è ancora anonimo assolutamente allora insomma Alfredo grazie ti sei mutato ti sei mutato Simone non si sa come sia stato possibile vediamo se riesco a smutarti mi senti no ecco adesso vai grazie per la partecipazione grazie a tutti i nostri co-host che ci hanno seguito in questi mesi quelli che ci hanno fatto domande osservazioni commenti feedback ci hanno promosso noi siamo stati felicissimi e speriamo di rivederci di nuovo tutti dopo l'estate per una nuova stagione di questo podcast dedicato all'intelligenza artificiale dove spero che parleremo insieme di tutte le cose che ci siamo saltati oggi e di tutte le nuove cose che avrai inventato nei prossimi mesi sperimentato scusa ciao a tutti ciao ciao grazie ciao a tutti ci vediamo la prossima stagione